Il corso di fotografia anche? Fotografia e grafica. Ah, grafica e grafica è ok. Fotografia non lo sapevo. Bello. La Porta Romana, vero? Sì. Un massimo di chasseria può avere anche il senso. Potrebbe avere anche il senso. Potrebbe avere anche il senso, è vero? Però... Però a me interessa anche l'estetica. E mi interessa anche... Oh, wow.